benvenute e benvenuti io sono andrea del circolo dei narratori di bergamo e questa è la terza probabilmente ultima lettura di questa estate l'altra volta ci siamo così accostati al genere teatrale non abituiamoci non ho voglia di far finta di fare l'attore però però insomma non si può introdurre il teatero e ignorare il più grande e va bene oggi volevo condividere con voi shakespeare basta poi finisce l'estate e torniamo alla nostra poesia distinzione su cui non sono tanto sicuro il traduttore del brano che vi leggo si chiama goffredo raponi ha difeso per lungo tempo una tesi critica abbastanza estrema per lui i testi di shakespeare che noi abbiamo non sono fatti per la rappresentazione ma per la lettura cioè il testo che veniva pubblicato non era uguale a quello rappresentato in teatro veniva adattato per agevolare la lettura individuale io non ho le competenze di filologia per accettare o respingere questa tesi però non posso fare meno di ricordare dario fo che diceva che il problema della teatrabilità di shakespeare e che è troppo bello da leggere e insomma come cavolo ci si approccia a shakespeare ho pensato di farmelo spiegare da un personaggio di shakespeare stesso da amleto amleto quello della tragedia a un certo punto se vi ricordate amleto per incastrare lo zio fa mettere in scena da una compagnia di girovaghi capitata lì una storia che lo riguarda che riguarda lo zio il crimine che lo zio ha commesso e ed ha indicazioni al capo comico e dice la battuta ti prego dovresti dirla come io l'ho detta a te leggera sulla lingua se sbraiti come fanno molti attori di oggi tanto voleva affidare i miei versi al banditore di piazza e non affettare l'aria con la mano così muoviti invece con morbidezza perché anche nel pieno del fluire nella tempesta direi anche nell'uragano della passione devi sempre conservare quella sobrietà che le dà scorrevolezza e mi ferisce profondamente ascoltare un tizio impostato con la parrucca sulla crapa che distrugge un sentimento facendolo a pezzi per frastornare le orecchie al pubblico che per lo più percepisce soltanto un confuso agitarsi e schiamazzo si meriterebbe di essere frustato quel delinquente che ti fa la caricatura termagante diventa più erode di erode evitiamo ti prego però non essere nemmeno sotto tono lasciati guidare dalla tua sensibilità personale armonizza il gesto alla parola e la parola al gesto stando attento soprattutto non superare la semplicità della natura perché in queste cose l'esagerazione è il contrario dello spirito del teatro il cui obiettivo dalle origini ai giorni nostri è stato ed è di reggere lo specchio alla natura dimostrare alla virtù il suo stesso volto dimostrare al vizio la sua stessa immagine al tempo all'età la loro forma se tutto ciò dall'azione teatrale risulta esagerato o minimizzato magari farà sorridere qualche incompetente ma inevitabilmente infastidirà l'esperto ed è il suo giudizio che deve avere importanza per voi del mestiere più che un'intera platea di quegli altri ma ci sono attori che ho visto recitare e ho anche sentito che venivano incensati per non dirvi peggio anche se non avevano né parlata da cristiani né movenze da cristiani da pagani da persone proprio li ho visti impettirsi ansimando in certe maniere da far pensare che la natura avesse appaltato la produzione degli esseri umani a qualche operaio che li aveva impastati un po' alla meglio in questo modo riproducevano l'umanità atrocemente non era questo il brano questa era appunto l'indicazione di partenza tra l'altro in questo caso traduzione mia non di goffredo raponi ora sarete d'accordo che scegliere un brano con premesse del genere è piuttosto difficile e in più io volevo evitare da un lato la roba troppo banale o romeo romeo e dall'altra tutte quelle complicazioni barocche per cui il sole si chiama il carro di fetonte che attraverso lo zodiaco solo che a guardar bene non esiste uno shakespeare minore e non esiste uno shakespeare semplice alla fine ho optato per riccardo secondo tragedia che anch'essa un classico ma spero se non altro un classico non troppo abusato tanto per aver chiara la trama la tragedia parla del fatto che è stato ucciso un nobile due altri nobili si accusano l'un l'altro e riccardo il re li punisce tutti e due li manda in esilio poi uno dei due che si chiama bowling brock lo sentirete nominare nel brano torna e riesce a convincere tutti di essere stato punito ingiustamente e fa imprigionare il re e prende il suo posto a questo punto si colloca il brano che stiamo per leggere questo è il vero brano che volevo presentarvi qui siamo sotto finale il re riccardo secondo e prigioniero da alcun tempo mi trovo con la mente a confrontare con il mondo esterno questo carcere dentro il quale vivo ma pensando che il mondo è popolato e che qui dentro all'infuori di me non c'è nessuno ciò non mi riesce ma a forza di picchiare su quel chiodo dovrò arrivare a trarne un qualche senso devo rappresentarmi la mia mente come femmina e come maschio l'animo e far che uniti insieme diano vita a una generazione di pensieri che daranno vita a loro volta ad altri e questi ad altri ancora e tutti insieme vengano a popolare il microcosmo dei miei diversi umori com'è diversa la gente del mondo perché nessun pensiero è soddisfatto quelli della miglior generazione come i pensieri delle cose sacre si mischiano agli scrupoli alle ubie fino a mettere verbo controverbo come ad esempio questo sinite parvulos venire ad me e l'altro è più difficile ad un ricco entrare in paradiso che ad un cammello attraversare la crona d'un aro i pensieri inclinati all'ambizione tramano inverosimili ardimenti come quello che io possa aprirmi un varco col solo usilio di queste unghie fragili attraverso le costole di pietra di questo duro mondo che è il mio carcere e come lunghi e non sono da tanto essi si estinguono nel loro orgoglio i pensieri ispirati a tolleranza trovano motivo di autolusingarsi che essi non sono nei primi negli ultimi ad essere in balia della fortuna simili in questo a certi mendicanti sciocchi che messi in ceppi trovano rifugio a quell'umiliazione nel pensiero che molti sono al mondo e molti ancora saranno come loro e trovano sollievo in quest'idea trasferendo la propria malasorte sopra chi ne ha sofferto un'altra simile ed io così mi recito da solo la parte di diversi personaggi nessuno soddisfatto del suo stato a volte sono un re ma subito l'idea del tradimento mi fa desiderare d'essere un povero e tal di vengo ma subito dopo l'oprimente miseria mi convince che re è meglio e re io ridivento subito dopo ma poi ma poi penso di essere stato spodestato da boling brock e la non so più nulla ma qualunque io mi sia né io né alcun uomo se più che uomo non è non sarà mai soddisfatto di nulla fino a che non sia consolato di ogni male e la musica qui ma andate a tempo anche la dolce musica è sgradevole se chi suona non tiene bene il tempo e non osserva bene la misura così è della musica del vivere ed io qui tal finezza d'orecchio da percepire se una corda stona o si va fuori tempo e tuttavia a mantener l'accordo del mio regno mai ebbi buon orecchio da avvertire quando ero io stesso a non andare a tempo del tempo mio ho fatto il peggior uso e maluso fa il tempo ora di me il tempo ha fatto di me l'orologio che ne misura lo stesso trascorrere i miei pensieri sono i suoi minuti e segna a cui sospiri loro scorrere sul quadrante dei miei occhi veglianti ed il mio dito come una lancetta literge di continuo dalle lacrime mentre segnano il battere delle ore i fragorosi altissimi lamenti che batte la campana del mio cuore così come sospiri e pianti e gemiti scandiscono minuti i quarti e le ore ma il mio tempo trascorre di carriera per la gioia dell'orgoglioso volo in broc mentre io me ne sto qui stupidamente a fargli da pupazzo d'orologio questa musica mi fa impazzire fatela smettere che se la musica spesso ha ridato ai pazzi la ragione con me sembra fare impazzire i savi benedizione scende in ogni modo su chi me ne fa dono perché è segno d'amore e per riccardo è un prezioso gioiello molto raro in un mondo tutto odio come questo tutto qui perché questo brano beh l'altra volta abbiamo visto un personaggio per cui la musica era un obbligo una parte della sua oppressione e questa volta mi piaceva incontrarne uno per cui la musica è un dono anche se è un dono ambiguo un dono che può fare impazzire e non è necessario affettare l'aria ed aree in escandescenze per impazzire questo personaggio misurato beneducato dentro le righe perché riccardo secondo è esistito davvero ed è stato tra le altre cose contestato anche perché non si accordava al suo tempo usciva dalla tradizione dei re guerrieri del medioevo specialmente inglesi finanziava le arti fu amico di Geoffrey Chaucer lo scrittore autore dei racconti di canterbury insiste perfino perché almeno durante le cerimonie i cortigiani mangiassero col cucchiaio roba da effeminati proprio riccardo secondo è esistito fine del quattordicesimo secolo cioè per essere chiari siamo dentro l'epoca in cui l'inghilterra combatteva la guerra dei cent'anni e bolingbroke è un personaggio storico anche lui poi diventato re con il nome di enrico iv a sua volta protagonista shakespeariano uno che le posate non le ha usate mai nella sua vita poi naturalmente a quell'epoca nessuno aveva ancora scritto il waltzer numero due di Shostakovich quello l'ho aggiunto io per il resto la vicenda della tragedia è abbastanza fedele a quella che ci riportano le fonti storiche abbiamo il castello dove Riccardo è stato prigioniero che nel testo viene chiamato Pontfrè ma se volete cercarlo su una guida turistica e visitarlo oggi si chiama Pontfrat e insomma queste piccole cose dicevo scusate non ha bisogno di presentarsi con gli occhi di fuori perché sia chiaro che sta diventando pazzo cos'è che lo fa impazzire? come in molti personaggi shakespeariano compreso lo stesso Amleto che però fa anche l'altra cosa fa il pazzo furioso ma solo per finta che cos'è? sono i suoi pensieri che si incistano che ritornano eternamente su se stessi che rimuginano sul proprio stare male lui naturalmente non ha alternative è prigioniero non può vedere nessuno contrariamente ad Amleto e a tutti noi ma è la sua ossessione a farlo stare male a fargli cercare consolazione nella morte come vi dicevo nell'economia della tragedia siamo sotto finale ma non è questo il finale succedono altre cose dopo che cosa? non ve lo dico se volete saperlo leggete la tragedia che è liberamente scaricabile oppure andate a vederla a teatro a seconda se pensiate che Shakespeare è rappresentabile oppure no e quindi